Bella ragazzi, qua è Ghiotto, Barcellona-Napoli 1-1, manca un minuto alla fine del match del Camp Nou che si è scatenato verso la fine, è stato un match secondo me un pochino anche al di sotto delle mie aspettative, avevo previsto una partita comunque con gol da entrambe le squadre, mi aspettavo forse che il Barcellona potesse, non con un risultato netto sia ben chiaro, ma comunque portare a casa i tre punti. 1-1 è vero che non c'è più la regola del gol in trasferta, ma rimane secondo me un risultato positivissimo per il Napoli, per comunque giocare al Camp Nou non è mai facile, soprattutto storicamente per le squadre italiane, però in vista dei 180 minuti il Barcellona sappiamo che quando invece va lontano dal Camp Nou va in difficoltà, storicamente soprattutto quando viene a giocare in Italia. Io ricordo anche i Blaugrana quando erano in grande spolvere, erano in auge, quando venivano a giocare in Italia spesso si trovavano in difficoltà. Direi che l'ultima partita giocata al Barcellona, appunto nella penisola, è stata a Torino, Juve-Barcellona 0-2, però poi persero la, vi ricordate, 0-3, era l'anno scorso la Juventus di Pillo. Comunque, allora, buon Napoli, partita diciamo che Spalletti approcciati in modo molto conservativo, però diciamo subito pronti ad andare in profondità verso Zimè, nel primo tempo comunque un Napoli che ha ribattuto colpo su colpo, è stato vispo. Voglio fare un piccolo ragionamento, io penso che le squadre italiane a volte hanno un po' un complesso di inferiorità, perché poi nel secondo tempo il Napoli ha lasciato praticamente la manovra sempre alla Barcellona complice, un calo dei partiti europei e magari invece un miglioramento del Barcellona anche grazie ai cambi, perché poi il Barça ha sempre una rosa importante. Però cavolo, a me dispiace, per quello che ieri ho elogiato tanto l'Inter, perché l'Inter ha perso, però ha dettato i tempi per larghi tratti della partita. Il Napoli, come può farlo? Perché sto Napoli non è più scarso il Barcellona, ragazzi, cioè in questo momento qua, anche come singoli se andiamo a vedere, si possono equivalere, poi sono situazioni diverse, perché la Barcellona ha magari Piqué, Alba, Busquets, che sono della vecchia guardia, e poi ha tanti giovani, poi ha giocatori arrivati adesso, il tridente era tutto nuovo, Traoreo Bameyang, Ferran Torres, che ha segnato su rigore. Questo Napoli è una squadra più rodata, quindi io so che fa strano dirlo, stride, ma io mi aspettavo di più, nonostante, ripeto, giocare al Capano non è facile, con una cornice comunque di pubblico, non tutto esaurito, ma veramente tanti tifosi, anche tanti tifosi napoletani, assolutamente. Comunque, niente, questo è un mio ragionamento, vorrei a volte un po' più di personalità da parte delle squadre, in questo caso il Napoli, Spalletti, ha un po' questo vizio qua, perché anche con l'Inter, dopo un bel primo tempo, poi si sono quasi, diciamo, accontentati dell'1-0, poi alla fine è finita 1-1. Comunque, Napoli, praticamente, formazione tipo, 4-2-3-1, con Meretti, il portiere di Coppa, Barcellona 4-3-3, con Peter De Jong e Nico González, quindi un centrocampo comunque giovane, e Torres, Aubameyang, Traoree, Aubameyang io sinceramente non so perché l'hanno preso, anche oggi, ogni volta che va al pallone tirava, non mi piace, né lo vedo in un momento della sua carriera, che può dare qualcosa, ecco, al Barcellona. Comunque, un primo tempo in cui il Barcellona ha tenuto tanto il pallone, come, vabbè, le loro caratteristiche, ma l'hanno mossa lenta la palla. Tante volte si hanno approvato qualche azione individuale, Traoree, che l'uomo lo salta sempre, però, quando tu crossi e che ci va in area, sì, c'era Aubameyang, magari c'era l'inserimento di Pedri, però sono piccolini, quindi sono state azioni un po' sporadiche. Mai che il Barcellona è riuscito, con i suoi classici triangoli, a creare grattacapi veri al Napoli, ok? E Napoli, invece, che appunto agiva in contropiede, diciamo che spesso lanciavano direttamente Ozymane in profondità, che comunque era molto bravo a scattare dietro alle spalle di Piquet. Ha avuto in occasione Ozymane un tiro, comunque, vabbè, facile per Ter Stegen. E poi è arrivato questo gol. Diciamo che c'è stato questo, tanto partita che è finita adesso, ragazzi, quindi 1-1, ripeto, risultato positivo. C'è stato questo triangolo, diciamo, lungo tra Zielinski e Elmas, che sono scambiati più di una volta al pallone. Poi, bravissimo Elmas sulla destra, che, alla lucidità di capire che Zielinski stava arrivando, sterza, temporeggia, serve Zielinski, però troppo statica la difesa della squadra di Xavi, perché nessuno segue Zielinski. Poi, se guardate bene, erano in tanti quelli del Barcellona, ma troppo statici. Zielinski addirittura tira, Ter Stegen para e nessuno va sul pallone. Cioè, difesa veramente imbarazzante, Zielinski poi ritira e, ovviamente, il giocatore polacco, se lo fai tirare due volte in area di rigore, e il gol lo fa, non può sbagliare la seconda volta. Quindi, 1-0. Aveva avuto prima un'occasione Ferran Torres, però il Barcellona, nel primo tempo, non riesce comunque a reagire, a parte qualche azione individuale, come ho già detto, di Adama Traoré, che anche lui è un acquisto di gennaio, tornato a casa, no? Lui era partito proprio dal Barcellona. Su Adama Traoré, diciamo, mi è piaciuto, perché saltava sempre l'uomo, ma a volte esagerava un po'. Ok, è stato alla fine poco incisivo nelle sue giocate, però diversi cross comunque interessanti. Ferran Torres è un po' impreciso, però mi piace, è un giocatore che mi piace tanto. Secondo tempo, appunto, il Napoli, un po' complice a causa della crescita del Barça, è un po' forse per scelta di dire, io aspetto in contropiede e poi ti punisco. Invece poi non sono quasi mai più ripartiti, anche perché magari per un giocatore come Insigne, il campo è veramente lungo quello del Camp Nou, capisci? Quando cali un po' fisicamente non riesci più a ripartire con forza, e il Barça trova questo gol, perché poi, sì, il Barça ha già fatto girare la palla meglio, ma poi grandi occasioni il Barça fatica a crearne. E questo rigore che, boh, è un po' sfigato, diciamo, perché Juan Jesus purtroppo allarga il braccio su un cross, manco a dillo, di Adam Aterori, io non li darei quei rigori, io sapete come la penso, perché sono anti-calcio. Lì allarga, ma non è che, correndo, io fatico a pensare che un difensore deve stare sempre con le mani dietro, però, vabbè, sono rigori che danno, non cambia neanche la traiettoria del pallone, non era un cross pericoloso, però rigore che c'è, e Torres lo realizza molto freddo, spiazza Merete. Poi il Barcellona ha avuto diverse occasioni, soprattutto nel finale, una con Torres, una con De Jong, che quando è entrato lui, forse, l'area era meglio occupata, ha tentato una rovesciata incredibile, che poteva essere, diciamo, un pochino il gol, chiamiamolo, dell'anno. Però, ripeto, ho visto meglio, diciamo, il Barcellona dal punto di vista del gioco. Infatti, 65%, 21 tiri, soprattutto nel secondo tempo, però il Napoli, io lo ribadisco, troppo rinunciatario. Secondo me questa squadra può fare assolutamente di più. Però, attenzione, il turno si deve passare, si può passare assolutamente, cioè, io non ho dubbi, ok? Quindi, bene così, bene le italiane, speriamo adesso anche Atalanta, soprattutto Lazio. Ragazzi, ci vediamo poi tra poco con il video sulla Lazio. Ciao, bella!